siamo con alessandro finotti match winner della di pro collegno san mauro una partita durissima oggi vero sì sì siamo nel primo nel primo tempo non siamo entrati molto concentrati poi nel secondo tempo ci siamo ripresi diciamo e siamo riusciti a vincere questa partita abbiamo fatto gli ultimi due gol negli ultimi 5 10 minuti e sono contento ci siamo impegnati tutti e quindi tornata la vittoria dopo la sconfitta nel derby se di nuovo primi a pari punti con il mercadante si obiettivo sempre il primo post prima posta ok bravo grazie grazie